Ogni volta ci ingrazziamo e non ci entriamo, comunque benvenuti in un nuovo video Oggi siamo qui per provare i calzoni di Prodis Perché se non ci siamo noi, ma chi vuole fare le recensioni di questi prodotti? Si sente un odorino fantastico Allora se non sbaglio, questo è ai quattro formaggi Quindi mozzarella, edam, provolone and hard grated Che cos'è? Comunque ha quattro formaggi Invece il tuo è mediterraneo Mozzarella cheese, feta cheese e basilico Allora, io questi li ho scongelati per all'incirca un'ora e mezza Cotti in forno a 180 gradi Dice 200, 220, mi ho fatto 180 perché 200 comunque è forte per il forno che ho io Ovviamente poi in base al forno così ve regolate Per una decina di minuti Quindi non ci resta che fare Sono 175 grammi Ah, vi voglio dire un attimo i valori Allora, per 100 grammi ha 273 calorie Grassi 7,5 Carboidrati 37 grammi Fibre 2,5 grammi Proteine 13 Quindi all'incirca un 20-22 grammi di proteine E sale 1,2 grammi Ok, facciamo il taglio Allora, non sono molto grandi No, una persona Tranquillamente ci mangia una persona Allora, avete visto tutto? Io mi aspettavo quattro formaggi bianco E pure io Invece questo è... Scotta Questa è tu, l'altro non ti fa incazzire Sembrano quelle pizzettine delle rosse roma La pasta è buonissima Ho mangiato solo il formale Oh, ok Io me l'aspettavo bianco Cioè io questo lo associo alla margherita Ma non ha un gusto tipo quattro formaggi Ok che fila perché c'è C'è un sacco di ripieno C'è anche origano Però non lo vedo Però lo sento Ma io non so qua Questo è miglioriano Questo sono quattro formaggi Sinceramente Molto easy Cioè sembra proprio margherita A me piace No, però è buono La pasta è buonissima Mi piace anche a me Wow Cioè sembra proprio Non sembra un prodotto surgelato Secondo me le pizze sono buonissime Queste scotta fanno la fridale Se questo è l'impasto Anche delle pizze Sicuramente sarà anche l'impasto delle pizze Wow Buonissimo veramente Mi piace un sacco Pensavo che magari si sentisse più provolone O se invece no Alla fine Allora Ovviamente Si deve sempre scaricare La videocamera Comunque Voto da 1 a 10 Per gusto cheese 7,5 Pure io Gli avrei dato Un 8,5-9 Se comunque Avesse avuto proprio Un ripino Bianco Sullo formaggio Perché così sembra più una margherita Però come sapore Buona Ma comunque c'è da considerare che è un prodotto surgelato Quanto costa? Non arriva a 4 euro Se non sbaglio Vabbè Vabbè Facciamo un attimo Aggiungere il latte No Ecco Non arriva a parte Se stanno i peperoni Ma non ho capito Cioè che mi dirai Non ci mettete i peperoni Mi sento i peperoni Sento i peperoni No Forse il pomodoro giallo Allora Gli ho morso Che c'è? Un morso di Ah Allora per i miei gusti È un po' Io non amo I sapori troppo forti Ma c'era solo questi due gusti Ma qualcuno non era disponibile Dico A me questo gusto non mi fa impazzire Sì Pure da me Cioè non mi piace questo fatto di incontrare i peperoni Quando poi nel gusto mediterraneo c'è scritto Basilevo Pomodoro Ci amate? Quel bel sapore di basilico Allora secondo me vi può piacere Non è male Non è male Alla fine è mandabile Allora se fossi stata solo salsa Senza questi pezzi L'avrei mandato Perché il sapore Si sente Non si sente Però non è male Ma non Questo fatto che ci stanno questi pezzi dentro Però in bocca non si sente Buono Però io preferisco di gran lunga Cheese Si Al di là Di quella piccola pecca Però Ma tu immagina Guarda del genere Tipo Patatine Rustella No ma poi Io proprio Ti aspettavo Calzone Nel senso Io non so Per mettere Ma te la ricotta Non piace Ricotta salame Si che fa Ho ce l'ha pure Questo vegetale La ricotta Ok ci sto mangiando In fondo Però è buono Come sapore non è che dici Sembra finto Sembra Assolutamente Io tra i due Io preferisco cheese Do un 5 e mezzo Ma perché È un mio problema Però Tutto sommato È buono No non è male Lo sapete io Sono più un amante Dei sapori più Delicati Però Sono felice Perché mi hanno provato Prima i calzoni E poi io proverò Le pizza che puoi provare Però secondo me Assisterò da dietro Dal backstage Perché sono molto curiosa Abbiamo scelto Busti anche un po' Più particolari Abbiamo presi tutti Si può dire Abbiamo presi veramente tutti Però no dai Alla fine Mi vale la pena Cioè alla fine Ce le siamo mangiate Al di là Di questa piccola pecca Però alla fine Sono veramente molto buone Sono fatti bene Vabbè ma non avevamo dubbi Io un po' mi spaventavano Però Ci sta Però di scomplimenti Mi raccomando Secondo me Puoi fare anche un altro gusto Ricotta Crudo Aspettiamo i nuovi gusti Io provo E' quella lì Della settimana di Lidl Con la stretta crudo Che era Al bidone Panzara 8 Una cosa del genere Che era con ricotta A me non ricordo Perché era molto buona E io non amo la ricotta E chi mi conosce Lo sa Però dai Io sono molto soddisfatta Anch'io Ovviamente vi aspettiamo Anche con le pizze Mi raccomando Però io ho una richiesta Per loro Vai A parte se volete vedere Qualche nuovo format Anche da fare insieme Oppure con qualche altra persona Non so Scrivete tutti i format Che volete anche Perché si avvicina a settembre Ed un'altra cosa Se siete sul sito di Prozis E vi viene sempre quel dubbio Non so Lo prendo Non lo prendo Scrivetemelo giù O nei commenti Così che io faccio l'ordine Ve li provo E vi porto la recensione Fatemi sapere Anche un'altra richiesta Se volete La recensione Dei pasti pronti Quindi solo Per riscaldare I pasti pronti Che ci faccio Una bella 24 ore Comunque uno deve mangiare Quindi alla fine Fatemi sapere voi E quindi con l'ultimo Sorsetto di copa Vi salutiamo Vi salutiamo Ne speriamo che questo video Vi sia piaciuto E ne ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao